Ops, fine corsa. Tu hai ucciso mia sorella. Ok. Beh, vi dovrei ringraziare adesso. Mi ero stancato di cercare. No, 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 no. No, 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 no. Sarà divertente. Din Din. Grazie, ragazzo. Grazie. 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 Sarà. Grazie. Grazie. farti fuori subito. Non dobbiamo ucciderlo. Deve pagare per quello che ha fatto. Sono d'accordo, ma se invocchiamo quella strada... non ne usciremo tutti vivi. Senza offesa. Odio questo bastardo. Ma ora dobbiamo sfruttarlo. Raggiungiamo lo scopo e torniamo a casa. Lo stai facendo per lei? No. No, lo sto facendo per noi. Leah vuole che ce ne andiamo e vuole salvare la sua famiglia, soprattutto questo stronzo. La situazione può precipitare in mille modi. Voto per l'opzione che ci farà uscire vivi da questo posto. No! Elijah... Avete intenzione di lasciarlo libero? Pagheranno per tutto quello che hanno fatto. Forse non oggi, ma pagheranno. Te lo prometto. Leah... Sono io. Dobbiamo parlare.